Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio il Ministro Boccia che oggi è stato con noi e ha tenuto una riunione, la riunione quotidiana con i Presidenti di Regione, ringrazio il Professor Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Io darei subito la parola, prima di dare lettura del bollettino, al Ministro Boccia che ci deve lasciare, quindi prego Ministro. Sì, grazie al Capo della Protezione Civile Borrelli, al Professor Rezza, io poi lascerò subito la conferenza stampa consueta che aggiorna il Paese sui numeri, sui dati. Era solo per informare tutti che è terminata la riunione con le Regioni, è diventata una riunione quotidiana, ogni giorno alle 15, c'è un coordinamento automatico con tutti i Presidenti delle Regioni, delle province autonome, con il Presidente dell'Anci e con il Presidente Lupi. Quindi il sistema delle autonomie locali è riunito in seduta permanente ogni giorno alle ore 15, qui attraverso la Protezione Civile e tutti i Ministri competenti, oltre a me e Speranza, sono coinvolti. Oggi ha partecipato la Ministra Paola De Micheli per le competenze del Ministero delle Infrastrutture e ovviamente seguono i lavori del coordinamento con la conferenza dei Presidenti, tutti gli uffici legislativi di tutte le amministrazioni centrali. Semplicemente per ribadire una cosa, la riunione è stata una riunione molto operativa, molto concreta, ogni giorno vengono posti temi sui quali vengono date risposte in tempo reale da parte del Governo. Oggi c'era il nodo di alcune stazioni sciistiche aperte nelle aree diciamo che avevano delle prescrizioni di minore intensità rispetto alla Lombardia, le 11 province e abbiamo dovuto prendere atto, nostro malgrado, dopo le segnalazioni di alcuni amministratori, di alcuni Presidenti di Regione, che il buonsenso che spesso abbiamo chiesto non solo non c'è stato ma in alcuni casi c'è stata anche un'operazione di marketing a dir poco vergognosa. Ci riferiamo alla sollecitazione ad alcuni studenti che erano liberi dagli impegni scolastici ad andare in montagna. Questa cosa è inammissibile, l'abbiamo stigmatizzata tutti all'unanimità, il Governo e le Regioni, visto che in alcune aree il messaggio non è passato attraverso l'autodisciplina che famiglie e coloro che in qualche modo potevano organizzare questi trasferimenti di vacanze assolutamente fuori luogo, abbiamo deciso all'unanimità con le Regioni e con il Governo di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese attraverso un'ordinanza della protezione civile. C'è ovviamente la condivisione di tutto il sistema delle autonomie locali. Riteniamo che operazioni pubblicitarie e di marketing come quelle fatte sulla betone siano non solo da stigmatizzare ma siano esattamente l'esempio di quello che non va fatto. Lo abbiamo detto a chiare lettere e siamo intervenuti immediatamente, quindi ringrazio i Presidenti delle Regioni che ci hanno segnalato prontamente queste azioni, siamo intervenuti e non c'è nessuna discussione, domani mattina si chiude tutto. È evidente che molte delle misure assunte partono dal presupposto che l'assunzione di responsabilità delle famiglie e dei singoli sia il primo impegno che deve essere mantenuto. Quando non c'è interviene lo Stato, interviene lo Stato con tutta la sua forza. Con le Regioni ci ritroveremo domani, ci sono una serie di risposte che già i Ministeri hanno dato su singoli temi, su singoli aspetti. C'è, come avevamo già detto ieri, una progressiva omogeneizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale, questo ha garanzia evidentemente degli interventi dello Stato, delle modalità con cui lo Stato sta distribuendo già da alcuni giorni materiali, non solo quelli canonici, quelli tradizionali, mi riferisco a mascherine e guanti, ma come vi dirà dopo il Capo della Protezione Civile è partita anche la distribuzione di ventilatori in tutte le Regioni, in particolar modo nelle Regioni con le maggiori condizioni critiche e ci saranno riunioni continue e contatti permanenti tra tutte le Regioni e la Protezione Civile e noi riteniamo che il processo di omogeneizzazione delle regole, delle prescrizioni e della disciplina sia in corso e potrà essere chiuso nel giro di pochissimo tempo. Ovviamente tutto questo sarà condiviso non solo con i territori e le autonomie locali ma con tutte le forze politiche. Grazie. Sì, eccoci. Allora diamo lettura al bollettino di questa sera. Partendo dal numero dei guariti registriamo 102 guariti, per un totale dei guariti di 724. Abbiamo registrato anche 97 decessi, per un totale di decessi di 463, per quanto riguarda i decessi noi registriamo sei in Lombardia, 14 in Emilia Romagna, tre nelle Marche, 2 nel Veneto, 2 nel Lazio, 8 in Piemonte, 1 in Liguria e 1 in Toscana. Sempre per quanto riguarda le classi di età dei deceduti abbiamo l'1% è nella fascia di età tra 50 e 59 anni, il 10% nella fascia di età tra 60 e 69 anni, 31% nella fascia di età tra 70 e 79 anni, il 44% nella fascia di 80-89 anni e il 14% ultranomantenni. Ovviamente i decessi sono caratterizzati per la prevalenza di persone fragili e con pluripatologie pregresse. Per quanto riguarda il dato relativo alle persone attualmente positive al coronavirus, questo dato incrementa oggi di 1.598 unità, passa a 7.985, di queste 4.316 sono in ricovero con strutture ospedaliere con dei sintomi, il 10% è in terapia intensiva subintensiva e circa 3.000 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le attività odierne, è proseguita l'attività di raccordo con le regioni, soprattutto per il riperimento e per la consegna della strumentazione necessaria al supporto e al potenziamento delle strutture sanitarie. In particolar modo è stata avviata la consegna dei 325 ventilatori respiratori per le terapie intensive e subintensive, la distribuzione da questa sera parte con la regione Lombardia, poi 90 in Lombardia, 56 in Ponte, 174 in Emilia Romagna e poi abbiamo la distribuzione dei 5 in Liguria. E' proseguita anche la consegna delle mascherine degli altri dispositivi di protezione individuale, siamo arrivati a una consegna di oltre un milione di mascherine, nei prossimi giorni continueremo a consegnare le mascherine, in particolar modo domani ci saranno consegne importanti di 100.000, circa 100.000 mascherine, negli istituti penitenziari per consentire la regolare fruizione delle attività all'interno degli istituti. Sempre per garantire l'attività in sicurezza degli istituti penitenziari sono state montate negli istituti penitenziari 80 tende che servono per il pre-triage nelle case circondariali. Questi sono i dati odierni del bollettino. Io darei la parola a voi per delle domande e ringrazio ancora una volta il professore Giovanni Rezza che ci assiste, assiste, che mi assiste, in questa conferenza. Salve Matano, Tg3. Senta, il numero dei decessi 463 crescono al 27 per cento circa rispetto a ieri. Ieri la crescita era stata più sostenuta però sono comunque a spanne il 5 per cento dei casi totali. Le domando questo perché non è che stiamo sottovalutando il numero totale dei casi visto che stiamo tamponando, facendo i tamponi solamente agli asintomatici e quindi questo numero dei decessi magari in percentuale rispetto ad una platea più ampia scende come percentuale? Io qui vorrei chiedere l'aiuto del professore Rezza perché su questi aspetti epidemiologici vorrei il suo conforto. Ci sono due diciamo spiegazioni che non sono alternative. Una è che se noi andiamo a stratificare per età in effetti noi abbiamo dei tassi di letalità del tutto confrontabili anzi anche un po' più bassi di quelli che erano stati riportati in Cina. Nonostante lì risultasse un tasso di letalità del 2,2,5 per cento è dovuto al fatto che noi abbiamo una popolazione purtroppo per fortuna una popolazione molto anziana. Tant'è vero che l'età media dei decessi è superiore agli 80 anni. Il che non è una consolazione per carità. L'altro motivo è anche quello che le dicevo è possibile. Nel senso che nel momento in cui si vanno a tamponare le persone sintomatiche è chiaro che si restringe il denominatore a persone che hanno sintomi o vengono ospedalizzate e quindi automaticamente il tasso di letalità della malattia, dell'infezione in generale, sembra più alto di quello che è. Non è che uno cambia per diciamo per abbassare il tasso di letalità, è una strategia quella del tappone perché vediamo le difficoltà anche a fare tamponi in tempi utili che si hanno in alcune regioni italiane per cui questa di fare tamponi sui sintomatici è stata diciamo una policy, proprio una strategia fatta per massimizzare e massimizzare i vantaggi ecco. Felicita. Io vorrei parlare una domanda al professor Retta. Professorezza sulla situazione a Roma i numeri sono ancora contenuti malessa mattina in un'intervista radiofonica. Non dico ha lanciato un allarme ma ha invitato a stare molto attenti. Sì era un un allarme preventivo nel senso che noi ci siamo trovati e abbiamo visto quello che è successo a Codogno. Lì era del tutto inatteso diciamo che ci si creasse una situazione così drammatica entro certi aspetti. chiaramente non si sapeva che il virus stesse circolando. Adesso è chiaro se noi vediamo anche un piccolo aumento in un'altra località che è lontana dalla zona rossa secondo me è giusto attenzionarla subito per non trovarsi visto che adesso siamo avvertiti in una situazione diciamo dopo di una situazione di difficoltà dopo quindi quello è il fatto che anche sia stato col dpcm esteso diciamo se vogliamo questa zona come si chiama angelo non gialla però a tutta italia una zona diciamo d'attenzione a tutta italia va in questa direzione cioè preveniamo piuttosto che intervenire dopo quindi questo era il senso della mia del mio richiamo ecco spero di essere stato chiaro su questo sì. Buonasera. Volevo chiedere un chiarimento rispetto a quello che è stato detto prima. Il tasso di mortalità con i dati di oggi e anche di ieri a livello nazionale era al 5 per cento e a livello di Lombardia è intorno al 6 per cento. Il tasso globale che ho io è del 3-4 per cento. Volevo chiedere quindi la spiegazione di un tasso di mortalità più alto se è corretto il dato che ho. Il tasso di mortalità più alto in Italia è dovuto quindi al fatto che la popolazione italiana è più anziana e vorrei chiedere un'altra cosa rispetto agli tassi di mortalità per fasce d'età che ci ha dato prima. Questi come si paragonano rispetto a quelli cinesi? Grazie. Poi la stessa domanda nel senso che ripeto se noi andiamo a... I cinesi avevano un tasso di mortalità crudo del 2-2,5 per cento che già noi dicevamo guardate che è sovrastimato perché non calcoliamo... c'è una marea di infetti che non arriva alla diagnosi. Per cui altrimenti il tasso di mortalità sarebbe molto più basso. Allora noi effettivamente quando abbiamo deciso di fare i tamponi solo ai sintomatici è chiaro che ci aspettavamo una crescita del tasso di mortalità perché il denominatore si andava restringendo alle persone con sintomi o addirittura con sintomi più gravi come succede oggi. dopodiché c'è anche il fatto che la popolazione cinese è molto più giovane di quella italiana. Quindi se noi andiamo a stratificare questo dato per fascia d'età vediamo che il tasso di letalità in Italia è più basso rispetto a quello della Cina. nonostante quello crudo sembrerebbe essere più alto. Alessandro. Buonasera Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano. Due domande rapidissime. I 325 ventilatori che state consegnando quanti di questi sono per la terapia intensiva e quanti per la subintensiva cioè dispositivi mobili? E la seconda al professor Rezza se può è possibile avere un'indicazione delle fasce d'età o perlomeno dell'età media dei pazienti in terapia intensiva? Allora sul numero dei ventilatori le faccio avere subito tramite il nostro Piero il dettaglio non ho con me questo dettaglio specifico. Non ho i numeri con me però l'età media dei pazienti in terapia intensiva è piuttosto elevata. È chiaro che qual è il punto? Tant'è vero che abbiamo visto che l'età media dei deceduti è superiore agli 80 anni. Il punto è quello che certamente nelle zone in cui dovessero privilegiare per la terapia intensiva e giovani insomma l'età media potrebbe abbassarsi. Sappiamo che al di sopra una certa età la terapia intensiva talvolta non ha un effetto salva vita. però questo dato non l'ho con me. Comunque devo dire che l'età media dei pazienti ricoverati in condizioni critiche in Italia è veramente elevata. Se ci sono altri trasferimenti con la COS? No, che io sappia oggi no. Quattro oggi? Ok. Altri quattro oggi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.